Per anni è entrato nelle nostre case direttamente dalla sua cucina. Benedetta Parodi. Ma se oggi la conosciamo così. Bella e sorridente. Sai come era come giovane? Benedetta Parodi è food blogger. Giornalista. Scrittrice. Presentatrice e negli ultimi anni persino altoparlanti radiofonici. Centinaia di ricette distribuite nel corso degli anni dalla sua cucina. In tv prima. Con il molto seguito fatto in casa da Benedetta e oggi sui social media. Il profilo di Ontbene è molto popolare e le ricette di Tenice Cook rimangono tra i piatti più. Ricercati in rete. Dopotutto. Ha spiegato a Donnad. La sua passione per la cucina è nata in concomità da quel momento in cui ho iniziato a studiare. Per imparare piatti semplici ma efficaci. Ma assaggiare i suoi numerosi fan è anche la sua naturalezza. La sua classe innata. Il suo aspetto è sempre stato curato e fuori posto nemmeno senza mai superare il trucco o l'abbigliamento. Ma se lo sappiamo oggi. L'hai visto da giovane? Benedetta Parodi come giovane e riconoscibile Benedetta Parodi è insieme alla sua amata Fabio. Caressa dal 1997. I due si sono incontrati rispettivamente a 25-29 anni e insieme hanno tre figli o Matilde. Nati il 5 settembre 2002. Eleonora. Nata il 20 ottobre 2004. Diego. Nate il 21 luglio 2009. Oggi lo ammiriamo per l'eleganza e la classe che si mette in mostra. Ma la sua comparsa di ciò che è cambiato rispetto a quando era più giovane. Forse non tutti sanno che il food blogger è iniziato come giornalista in studio aperto. Un ruolo che ha poco abbandonato per dedicarsi alla sua passione per la cucina. La foto inedita. La foto che mostra un molto giovane Benedetta Parodi ha fatto brevemente il giro. Del web. La donna è seduta accanto alla piscina e indossa un intero costume. I capelli lunghi. Aria arcuata. La stessa bellezza di oggi. Il fisico a basso e lungo lungo come mantiene la linea dopo tre gravidanze. Ha confessato di confidenze. Non faccio mai diete drastiche. Anche perché. Quando mi sento un po' ponderato. Posso preparare ricette luce ma appetitose. Ad esempio. Un singolo piatto con pasta poca. Condita con tre o quattro verdure che cucinano in modo diverso bollito. O grattenno o salto.